La mia famiglia è morta ingiustamente Già redolio per il fuoco. Credo che basteranno. Grazie. Grazie. Ora potranno riposare in pace. Credi che riposeranno? Dicevi che i Dragra, i tuoi familiari, avrebbero cercato vendetta. È colpa mia. Li ho uccisi. L'avidità mi ha tolto la ragione e la mia famiglia. Mio fratello era l'erede di mio padre. Ma era un mio diritto. Mi hanno sempre dato del fallito. Non si sbagliavano. Quella fortuna è ancora a casa nostra. Ma non vale nulla se nessuno può goderne. Ti chiedo un favore. Uccidimi e potrò raggiungerli a Helheim e chiedere il loro perdono. Uomini come te meritano un fatto ben peggio. Spero che la tua famiglia ti punisca. Persino è Helheim. Spero che la tua famiglia ti punisca.